Abbonato oramai alle interviste Matrice, autore di tre gol che hanno deciso il match che gli atleti di Caminei hanno vinto nei confronti di singolare, allora cosa ci puoi dire sulla gara? Abbiamo giocato una buona partita, abbiamo dimostrato di essere migliori anche questa volta, anche se di attestare anche erano bui giocatori, grazie anche soprattutto ai miei compagni di squadra che mi hanno fatto fare anche tre gol, abbiamo vinto questa partita, abbiamo dimostrato che ogni volta di non muovere mai, anche se siamo andati un po' in strada di vantaggio, abbiamo dimostrato soprattutto di essere ancora grandiosi nel recupero, abbiamo evitato molto, abbiamo giocato un ottimo partita, in questa partecipazione dall'erbottismo, questi gol sono dedicati principalmente a me e a Nando, mi dedico a questa grande partita che è un grande, la ricorderò per sempre. Grazie mille, un bacio anche a noi a Nando, alla prossima, ciao!